Buona giornata da Nico Schiodetto, un nuovo aggiornamento con i Tg di 3b, partiamo dal satellite perché l'anticiclone subtropicale domina la scena dappertutto, inverno latitante ancora una settimana con temperature oltre la media stagionale sulla nostra penisola. Intanto sull'Italia e sul sud della Francia cieli sereni o poco muolosi e le perturbazioni ad ovest attualmente sulla penisola iberica. Nel dettaglio le temperature saranno aggiornate di venerdì di cieli poco muolosi sull'Italia, solo qualche velatura in transito, guardate i valori termici al centro-sud anche fino a 18-19 gradi e in pianura padana al norte dove non ci saranno le nebbie fino a 14-15 gradi, insomma sono temperature più da stagione primaverile. Andiamo a vedere il weekend, lieve cedimento dell'alta pressione tra venerdì sera e sabato sulla parte più occidentale della nostra penisola, un po' di variabilità, nubi un po' più compatte sabato sulla Sardegna con qualche goccia di pioggia ma poi possiamo notare come questo minimo di bassa pressione dalla Francia e dalla Spagna domenica già sarà sull'Algeria e quindi sull'Italia tra sole, nubi sparse, praticamente un weekend con precipitazioni irrisorie quasi del tutto assenti. Qualcosa dovrebbe cambiare la prossima settimana con un nuovo affondo un po' più incisivo dal nord Europa, dovrebbero ritornare delle piogge con target soprattutto il centro-sud. vedremo intanto tutti gli aggiornamenti sul nostro sito web, articoli dedicate o scaricando la nuova app di Trebi Meteo.